Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni. Rallentamenti per un incidente avvenuto tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. E' stata chiusa per lavori l'uscita di Empoli Est provenendo da Livorno. Per quanto riguarda le autostrade in A1 tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. In A12 uscita chiusa a Sarzana provenendo da entrambe le direzioni, naturalmente siamo in Liguria. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!